Beh, diciamo che fortunatamente non ci si abitua perché addirittura ogni concerto è a sé, ogni concerto ha la propria emozione. Certo, se penso che faremo due concerti in piazza San Marco a Venezia è qualcosa di straordinario, è realizzare un sogno, un sogno di una vita perché chi è che non ha mai sognato di suonare in un posto così storicamente importante, di una bellezza infinita e insomma l'emozione è veramente tanta e quella sera lì sarà, credo, io parlo per me, sarà veramente incontenibile, non sarà neanche facile cantare. Ma guarda, noi veniamo da un 2023 pieno di grandi successi, è iniziato da un grande concerto che doveva essere l'unico a San Siro, sold out dopo un paio di giorni ed è continuato fino al 31 di dicembre dell'anno scorso, toccando dei posti bellissimi, non ultimo anche a Canada e Stati Uniti e allora l'appetito probabilmente viene mangiando e qualcuno ci ha detto ma cosa ne direste di continuare questo vostro tour nei posti più belli, nelle piazze più belle che sono in Italia? e abbiamo detto sì, anzi abbiamo detto tipo, ci hanno detto beh tipo piazza San Marco, ok, dov'è che dobbiamo firmare? E credo che sia una bella, una bella esperienza il fatto dopo tanti anni che facciamo musica suonare definitivamente in questi in questi spazi che che non avevamo mai visto, li abbiamo visti soltanto quando facevamo le gite alla domenica no? a Venezia, per cui sarà veramente molto emozionante per noi aneddoti ce ne sono tanti perché noi a Venezia abbiamo suonato tante volte però in teatri, al Lido, anche qui al Goldoni però al Malibram però lavoravamo sempre in spazi ridotti, non vedevamo la bellezza della città perché ogni teatro è uguale in ogni città però abbiamo un episodio molto carino perché quando nel 76 venimo qui per fare la copertina e un servizio fotografico in un importante rotocalco di musica ci accorgemmo che nel momento in cui stavamo per fare la foto in piazza San Marco non avevamo la torta dei 10 anni per cui andiamo qui dietro proprio alle frezzerie a prendere del cartone rosa lo graffettiamo con la pizzatrice poi con un penarello scrivemmo 10 che era il numero dei nostri anni e con la schiuma da barba spray facciamo tutti dei ricami di panna finta meravigliosi e sembrava una torta bellissima l'unica cosa che il fotografo doveva scattare da sotto perché se stava ad altezza normale si vedeva il buco al centro però ci hanno creduto tutti ed è stato uno dei falsi storici più di successo perché tuttora trovavamo fino a poco tempo avanti trovavamo gente che ci diceva ma ve la siete poi mangiata tutta quella torta fantastica adesso purtroppo l'abbiamo svelato non ce lo chiederanno più questa volta gli ho detto però io vengo in questo tour solo se facciamo almeno due concerti in piazza San Marco bravo l'ha imposto grazie a lui volevo dire che piazza San Marco c'è ricordo una fotografia del mio papà e della mia mamma che per il loro cinquantennale di matrimonio erano qua e davano da mangiare ai piccioni quindi mi viene alla pelle d'occa a pensarci sono veramente onorato di stare qua con i miei fratelli e di essere su quel palco lì a San Marco grazie a tutti